Ciao a tutti ragazzi, bentornati su YouTube come sempre Tiz, grazie per aver seguito in tanti l'episodio numero 1 del viaggio di Alex Hunter, quello che ho messo su YouTube due giorni fa. Vi ricordo che è aperto il sondaggio per la scelta della squadra per la carriera allenatore nel video che ho messo ieri e terò ancora aperto un paio di giorni il sondaggio prima di scegliere definitivamente la squadra con la quale fare la carriera per cui se non avete ancora messo la vostra scelta, dato la vostra opzione, andate nel video che vi linkerò adesso sotto e andate a scegliere la squadra. Oggi andiamo avanti con il viaggio di Alex Hunter, abbiamo scelto il Leicester e a questo punto lo portiamo avanti, anche se non siamo gli unici su YouTube ad aver fatto questa scelta. Proverò a non mettere il titolo spoiler, come avevo detto anche nei video di ieri, perché molti di voi magari vogliono giocarsela con calma quando uscirà il gioco definitivo. Io però ci tengo tantissimo, non vedo l'ora di andare avanti, per cui non riesco ad avere così tanta pazienza e aspettare qualche giorno, mi lancio di nuovo nel viaggio, carico l'ultimo salvataggio e proseguiamo. Nell'episodio numero 2, eccoci qua ragazzi, qualche giorno dopo, siamo seduti sul letto della nostra cameretta siamo stati presi dal Leicester, abbiamo fatto il nostro primo allenamento ma non sappiamo ancora assolutamente cosa succederà e quindi continuiamo a guardare al telefono e qua vediamo la madre che si affaccia all'ingresso della cameretta entra col computer in mano e dice guarda che non suonerà solo perché continui a fissarlo per cui il nostro Alex chiaramente adesso ha l'entusiasmo che sfonderebbe anche il soffitto e dover stare in cameretta ad aspettare una chiamata è comunque difficile. Lei infatti dice la pazienza è una virtù perché anche lei sta aspettando delle offerte di lavoro. Lei dice è il tuo primo precampionato, siamo a luglio, lei dice stiamo parlando dell'America ah è il tour precampionato ragazzi, è il tour americano con il Leicester, niente male come idea, molto realistico. E in quel momento suona il telefono, è il signor Butler al telefono, lui cerca di essere molto professionale, sta tranquillo ma in realtà non ci sta più dentro dalla tensione perché vuole assolutamente sapere se potrà andare con la squadra a fare il tour americano di precampionato. E lei dice allora, oddio, niente esultanza da stadio come se avessi appena assegnato un gol ma perché la chiamata diciamo è stata positiva si va in America inizia il nostro tour, che figata ragazzi siamo in aereo, in giacca camicia e cravatta il nostro Alex Hunter si siede di fianco a Walker immagino, al finestrino dell'aereo, eccolo qua Garrett, tesissimo che prova ad abbassare il sedile c'è Vardy in giacca camicia e cravatta seduto dietro di noi e Marez nel sedile dopo e qua l'altro giocatore prende per il culo Walker dicendogli che non devi spingere ma che c'è il bottone e io gli dico lascia perdere, gazz sono stati un po' sbruffoni, pugnetto d'intesa, sono stati un po' sbruffoni perché abbiamo detto quando avremo il nostro aereo capiremo come funziona insomma e poi è bella che c'è Alex che dopo un po' dice, sussurrando dice ma adesso hai capito come funziona? si c'è il bottone e quindi possono sdraiarsi entrambi con Vardy dietro che ancora se la ridacchia in giacca camicia e cravatta è bello, posso immaginare che se usi un'altra squadra c'è la stessa scena con un altro giocatore però se ci aggiungi un po' di fantasia tua è bello l'idea che tu hai Vardy in aereo dietro di te che è lì che ridacchia perché avete questi due ragazzini che non sanno neanche bene come funzionano le poltrone della classe di lusso comunque il nostro valore di mercato è 5 milioni di sterline che è ottimo ragazzi, è ottimo, è ottimo abbiamo già guadagnato 14.800 sterline, i social dicono Alex Hunter e Gats Walker si potranno mettere in mostra nel tour della squadra l'esterno di USA non sono troppo giovani, questo è un po' il quesito, comunque 16 luglio 2016 andiamo a Seattle, siamo arrivati negli Stati Uniti e la prima partita del tour precampionato è con il Paris Saint Germain alla fine questi tour precampionato sono sempre contro squadre molto forti per cui speriamo di riuscire a fare dei gol e speriamo di vincere ragazzi perché comunque col Paris Saint Germain non sarà facile trovare tante occasioni partiamo come sostituti, ci sono tantissimi sostituti in campo e gli altri, quelli titolari sono Marez, Inler, Vasilevski, gli altri sono tutti giovanissimi per cui noi siamo in panchina, probabilmente avremo spazio nel secondo tempo eccoci qua ragazzi, stiamo entrando in campo, siamo a Seattle inizia il nostro tour precampionato con il Paris Saint Germain le panchine non sono proprio come quelle del King Power Stadium però insomma ci sediamo in panchina e Alex si guarda attorno perché non ha mai visto così tanto pubblico in uno stadio in prima persona ed inizia la partita del Leicester senza di noi siamo seduti con Garrett Walker in panchina eccolo qua a Leicester, questo è Fox anche Vardy in panchina con noi arriva il gol, gol di Musque non riesco bene a leggere il nome, anche Hutt è in panchina con noi eccolo Claudio potevano farlo anche un pochino meglio però comunque ci somiglia diciamo e arriva il vice ah e ci fa scaldare entrambi, fantastico doppio cambio in attacco ed entrano al pugnetto d'intesa ragazzi il pugnetto d'intesa sarà il nostro marchio di fabbrica è un po' ridicolo e quanto sta bene Alex Hunter con la maglia del Leicester entriamo entrambi allora 7 di voto difendi il risultato colpo di grazia facciamo una fase abbastanza noiosa non puoi fare più di tanto puoi fare questi passaggini qui però in questo caso stanno funzionando bene ti prego passamela dietro eccolo qua Alex Hunter il tiro peccato ragazzi potevamo addirittura fare il 2 a 0 sarebbe stato davvero più di quanto ci avevano chiesto vieni qua Bernard ti aiuto io nooo perso il pallone che bastardo che sono stato perso il pallone devo recuperarlo bravo Alex premia la corsa sulla faccia no dai ragazzi era una A per chiamarla e mi ha fatto il passaggio ecco Hunter Hunter rete rete ragazzi si è riusciti a segnare incredibile si è riusciti anche a segnare 7,7 e gol ragazzi il debutto perfetto prima partita nel precampionato è primo gol che bella ragazzi questa azione con Bernard e Walker che hanno gestito tutto abbiamo anche raddoppiato il vantaggio è vinta la prima partita con il Paris Saint Germain che aveva tantissimi sostituti esulta come un pazzo Claudio Ragneri che ha quindi azzeccato la scelta del cambio meglio di così non poteva andare gol al novantesimo e in questo momento 2 a 0 partita ormai finita abbiamo tenuto il vantaggio abbiamo 7,7 purtroppo se c'è la telecamera in alto a destra non vedete la valutazione proverò a spostarla comunque ve lo dico sempre io a voce la valutazione in questo momento è 7,7 ci avevano chiesto di ottenere almeno 7 per cui avremo tutti e tre i bonus a meno che non fanno due gol in un minuto cosa molto difficile fischio finale lo dice anche Pierluigi Pardo grande impatto di Alex Hunter infatti vanno tutti a complimentarsi con noi però anche Walker e Bernard hanno fatto una bella partita per cui magari anche il rapporto tra loro due migliorerà dopo lo sketch dell'aereo comunque 3 bonus su 3 abbiamo preso fai colpo sul mister difendi il risultato colpo di grazia e quindi meglio di così non poteva andare eccoci negli spogliatoi è successo davvero dice Walker e dico l'inizio di qualcosa di grande stiamo diventando un pochino più impulsivi ragazzi ma sapete quello che avevo detto anche nel primo episodio più facciamo bene e più possiamo essere impulsivi meno facciamo e più dobbiamo essere pacati in questo momento stiamo facendo tutto la grande per cui è giusto essere anche un pochino più impulsivi arrivano 250 di bonus per il gol salgono i guadagni non sale ancora il valore di mercato e aumentano molti follower superiamo i 10k con anche qualche follower in più per la risposta impulsiva sale anche la crescita degli attributi dovremmo già avere se non sbaglio 2 no 3 punti abilità e allora con questi punti abilità si possono sbloccare delle caratteristiche io direi di aumentare il tiro di precisione e poi rimane un bonus qua non possiamo aumentarlo però vabbè la velocità ce l'abbiamo già abbastanza sarebbe bello aggiungere il nuovo vigore al momento non possiamo ancora farlo per cui l'ultimo bonus lo utilizziamo per il piede debole e portiamo le stelle del piede debole da 3 a 5 in questo momento siamo praticamente ambidestri e direi che è un ottimo un ottimo upgrade che abbiamo fatto e quindi si può procedere siamo negli esperiatoi questa è la scena che avevamo già visto nel trailer del viaggio comunque stavamo entrando nella stanza ci pesta praticamente i piedi la porta mentre si sta aprendo ed è Marco Reus che incrociamo durante il tour precampionato perché la prossima partita è con i Borussia Dortmund e quindi c'è questa diciamo c'è questo siparietto in cui inizi ad entrare in contatto con i campioni diciamo delle altre squadre siamo in campo titolari per la prossima partita probabilmente anche il gol ha inciso sulla scelta di Claudio Ranieri e siamo titolari con a fianco Walker in questo momento è un pochino più forte di noi è un 64 noi appena un 60 ma abbiamo già la freccia in su perché col gol abbiamo la forma migliorata Alex Alex no bruttissimo tiro abbiamo fatto un bellissimo scambio però il tiro è orrendo e ci abbassa la valutazione a 6,1 prima avevamo 5,5 poi dopo quest'azione eravamo saliti anche a 6,2 ma il tiro viene comunque considerato davvero mediocre ho provato il tiro al volo ma chiaramente siamo appena un 60 di totale e non possiamo permetterci grandi giocate bello questo contrasto ridammela bastardo dribbling cross dentro il cross viene considerato bello ma non genera purtroppo un gol la valutazione comunque sta salendo vertiginosamente siamo forse i migliori in campo tra però giocatori che in questo momento stanno perdendo intercettiamo anche un passaggio beh non possiamo lamentarci della nostra prestazione chiaramente non dipende solo da noi il risultato ok allarghiamo un po' sto gioco ma dai era bellissimo il passaggio ecco il nostro Alex proviamo eh fallo ecco dove devi fai girare la palla stavo crossando mi è arrivato un fallaccio ci sarà anche una punizione dentro il tiro non arrenderti palla alta palla alta purtroppo Aubameyang difende il pallone niente ragazzi fischio finale col Borussia purtroppo perdiamo c'è un po' di disperazione da parte nostra però non è una squadra facile da affrontare abbiamo ottenuto comunque un 7,1 con tanti complimenti per cui spero che eh questa sconfitta non incida troppo eh sulla valutazione del nostro Alex e abbiamo la prossima partita che però è con il Real Madrid per cui non ci va meglio assolutamente qua ci dicono che il primo contratto di sponsorizzazione è a 200.000 follower per cui non vedo l'ora di raggiungerlo perché sicuramente la sponsorizzazione cambierà un bel po' di cose eh nella nostra nella nostra carriera ho solo un punto abilità non lo voglio utilizzare ancora perché soprattutto con due o tre punti abilità si possono sbloccare le cose importanti per cui evitiamo di sprecarli subito appena li otteniamo e qua c'è ancora la schermata di caricamento dovremmo fare la terza partita con Real per cui in questo caso vedete che ci sono meno video e più partite da giocare e direi che si può andare anche un pochino più speditamente qua c'è il caricamento e nella area social ci dicono che praticamente sembra che eh l'ester sia sul mercato che stia comprando un altro attaccante e e quindi i vari tweet sono riferiti a questo stanno dicendo di non ascoltare queste voci di non preoccuparsi che chiaramente per un attaccante quando arriva un collega deve dire la stampa che più siamo meglio è ma in realtà eh chiaramente c'è la preoccupazione per trovare meno spazio in campo comunque sarà anche per la sconfitta della volta scorsa ma questa volta ecco il Real siamo eh partiamo dalla panchina assieme a Walker e qua c'è una traversa del Real poi parata di Schmeichel gioca a Vardy l'ho visto prima in campo intanto un'inquadratura sul pubblico ecco qua Vardy avanza Vardy oh bruttissimo fallo si arrabbia molto il vice di Ranieri attenzione raga mi sa che si è fatto male mi sa che si è fatto male Vardy ha un problema al ginocchio per cui mi sembra una cosa anche abbastanza grave e Ranieri decide che dobbiamo sostituirlo noi per cui rientriamo di nuovo in campo da subentrati dobbiamo riconquistare tre palloni pareggiare i conti e fare sette di valutazione Claudio Ranieri crede moltissimo in noi vai filtrante dentro Musa era bellissimo questo filtrante basso non ci arriva Musa con Ahmed Musa ragazzi se ci pensate quattro anni fa in una carriera l'avevo comprato e quindi fa impressione che adesso dopo quattro anni ci giochiamo assieme nel ruolo di Alex Hunter però sono sicuro che con lui mi troverò da dio perché è molto rapido molto simile a me qua attenzione riusciamo a difendere il pallone lo diamo da Ahmed Musa che difende molto bene la palla Alex Alex prova il tiro di sinistro stavamo provando il piede debole purtroppo alto di poco 6,6 non arrenderti mi dicono però questo mancino poteva essere un pochino più preciso dobbiamo recuperare ancora due palloni per ottenere un altro riconoscimento da parte dell'allenatore cross dentro per Musa vai no buona idea mi dicono attenzione tira si rete rete sete di valutazione perché chiaramente col gol sale la valutazione di tutti arriva il gol di Drinkwater qua possiamo rivedere Ahmed Musa non riesce ad arrivare di testa poi Marez e the Drinkwater fanno un gioco splendido di squadra arriva l'1-0 contro un Real Madrid chiaramente pieno di giovani ma entra che siano Ronaldo l'ho visto già in campo è entrato anche Bale rubiamo il pallone forse sono tre vediamo si 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 abbiamo ottenuto tre bonus su tre ottimo ragazzi stiamo giocando alla grande passala qua niente brutta chiamata mi diranno ma rubiamo un altro pallone eccezionale eccezionale quello che stiamo facendo attenzione Ronaldo cross dentro bello che bello questo filtrante che ho fatto vai vai Musa nooo non ci sono stato sul tap in che peccato grande Ahmed ragazzi abbiamo fatto un'apertura meravigliosa di filtrante a saltare la difesa avversaria che bella con l'apertura adesso attenzione novantesimo Casemiro ho stra paura di un pareggio se dovessimo vincere con Real andiamo sicuramente avanti nel tour americano eccolo qua Ronaldo basso io lo spazzerei fuori anche se ci abbasserà la valutazione chi se ne frega no Musa sei più veloce sei più veloce viene fermato Ahmed fischio finale 7,1 abbiamo ottenuto 3 bonus su 3 era quello che contava in questo momento nessun gol ma abbiamo aiutato a far segnare Dream Quarter ho perso troppo stesso il pallone così ha detto l'allenatore a me non sembra ma non possiamo sicuramente mettere in dubbio la parola di Claudio Ragneri e proseguiamo abbiamo fatto le tre partite di pre-campionato quando abbiamo giocato col Paris Saint Germain ci facevano già vedere quella col Borussia e così anche col Real per cui adesso penso che sia finita qua oppure che prosegue si va tipo in semifinale poi finale wow ragazzi aspettate intervista James Rodriguez e parla in spagnolo si bueno muy feliz de estar aquí una grande squadra muy mucho feliz ah e poi dice l'infortunio ha avuto un grosso impatto si decisamente anche se Alexander ha disputato comunque una buona partita ragazzi James Rodriguez che parla bene di Hunter tanta roba e quindi niente siamo soddisfatti anche di questa gara sono contento abbiamo fatto un buon inizio abbiamo fatto un gol e comunque tre prestazioni sopra il set di valutazione per cui non possiamo sicuramente lamentarci aumentano i follower siamo quasi a 20.000 andiamo avanti ragazzi siamo in aereo oh era in Madrid ancora non riusci a crederci Alex sanno chi siamo sono solo amichevoli per campionato non riesco a credere che eravamo in campo insieme non riesco a credere che eravamo giocano anche molto ah ok perché stavamo parlando del real dicevano mamma mia ragazzi ah ok qua stavamo parlando del fatto che è andato tutto così veloce sarà meglio che ti abitui grande calcio adesso ah ok perché adesso per tanto tempo sarà fuori i guardi e gli dice ti occupi degli assist io li metto dentro e io gli dico due persone un esercito i nuovi runei e la NASA vabbè insomma si stanno gasando a vicenda anche se Walker mi sembra un pochino più egoista un pochino più selfish e Toro dice l'autostima di certo non vi manca che vuoi dire Toro? ah ok stanno iniziando a parlare del fatto che due non possono prendere il posto di uno e Walker qua inizia a fare un po' lo sbruffone dice io sarei sicuramente il titolare e Alex risponde certo se vogliamo perdere e quindi per la prima volta forse c'è uno screzio tra i due giovani perché Toro gli fa notare che c'è posto solo per uno perché si è rotto solo Vardi e lì Walker la risposta del giocherai sicuramente io titolare infastidisce Alex quindi è il primo vero screzio tra i due giovani adesso sono curioso di vedere come proseguirà questa cosa nel frattempo abbiamo un allenamento in tiri per cui siamo tornati all'est puoi aumentare la valutazione dell'allenatore di Alex comportandoti bene in partita nel allenamento ah ok per cui la valutazione dell'allenatore è molto utile perché aumenta le chance di poter giocare insomma questo è il succo e in questo momento siamo sostituto Lili per diventare titolare e quindi dobbiamo sicuramente far vedere a Claudio che possiamo essere titolari in questo momento che manca Vardi e quindi direi di iniziare abbiamo due allenamenti bronzo ce la dovremmo fare tranquillamente stiamo in realtà andando molto bene però non riesco a centrare tutti i bonus vabbè l'importante è ottenere un A in questo momento per cui andiamo avanti all'allenamento dopo che sono i pallonetti niente ragazzi purtroppo nei pallonetti ho preso solo una C ho fatto un pochino più di fatica perché soprattutto in quelli ravvicinati il portiere riusciva sempre a prendere o in salto oppure addirittura a due mani per cui purtroppo una A nei tiri da fuori una C nei pallonetti temo che siamo ancora nella fase sostituti però vabbè aumenta per fortuna un po' la finalizzazione andiamo avanti sì non è cambiata la valutazione dell'allenatore siamo ancora lì lì per diventare titolari dobbiamo sicuramente superare quel piccolissimo pezzettino ed eccoci nello spogliatoio Walker è al cellulare nooo nooo guy dice siamo nella squadra congratulazioni ve lo meritate dice Toro Alex era terrorizzato perché non trovava il pallone del nonno praticamente da quello capito siamo saliti dal giovanili alla prima squadra in questo momento non ci posso credere dice Alex praticamente hanno visto sulla lavagna che sono praticamente considerati nella rosa senior nella rosa titolare non tra i giovani delle giovanili fino ad ora la classica diciamo classica situazione da sogno e c'è la prima partita di premier ragazzi imperdibile Liverpool Leicester con la valutazione dell'allenatore che è sempre lì per considerarci titolare ma siamo ancora sostituti in questo momento e direi che possiamo andare a giocare la prima partita della nostra carriera in premier league davvero emozionante giornata inaugurale della stagione di premier league usciamo dal bus eccolo il nostro Alex arrivano le prime foto che belli però questi filmati poi vederli per la prima volta ti dà un'adrenalina un'emozione particolare ecco l'avevo appena detto questo invece è un filmato che abbiamo già visto nella demo solo che in questo caso è applicata sulla squadra dell'Ester dove ci sono Walker e Hunter che entrano nello spogliatoio e ci sono Toro e Lily adesso non so come mai c'è scritto sempre Lily quando parla per cui io dico Lily eccolo qua che si avvicina e dice hanno scritto bene i vostri nomi Mopiti se come nella demo uguale questa scena e Walker e Alex che si danno il pugnetto e sono ancora gelati dall'emozione non riescono a dire neanche una parola Alex ha quasi le lacrime agli occhi perché comunque vedere il suo nome su una maglia nello spogliatoio assieme di fianco alle maglie degli altri giocatori fa davvero una grande impressione va bene ragazzi questo filmato l'abbiamo già visto e gli dico nessuna pressione amico in realtà permettegli un po' di pressione non farti prendere l'emozione e non gli arriva il pugnetto in cambio come abbiamo già visto nella demo perché comunque nella prima partita Walker è titolare e purtroppo il nostro Alex dovrà partire dalla panchina quindi la battuta fatta in aereo da parte di Walker in realtà si sta rivelando una verità cioè lui giocherà titolare e noi sostituti entra in campo all'Anfield Anfield strapieno per la gara inaugurale si sente il Never Walk Alone urlato dai tifosi entriamo ci sediamo in panchina nella nostra panchina ospiti in questo caso dell'Ester siamo un po' tesi un po' tesi Alex aspetta l'ingresso dei titolari ed ecco Walker che come abbiamo visto nella demo lancia quest'occhiata un po' di sfida e Alex è più che altro dispiaciuto non capisce e dopo il coro who are you who are you cioè chi sei chi sei da parte dei tifosi del Liverpool arriva il vice dice i due centri sono stanchi sfruttano la tua velocità per superarli ok è chiaro ragazzi i ritmi non sono quelli del precampionato adesso non si scherza più è il debutto e io gli dico voglio giocare non vedo l'ora di entrare mi piace il tuo atteggiamento dice Butler è arrivato il momento ragazzi sostituiamo Walker che ha segnato e adesso non dobbiamo essere da meno ma non dobbiamo nemmeno avere la fretta di dover a tutti i costi fare un gol giochiamo la nostra partita impegniamoci facciamo vedere chi siamo perché sono sicuro Claudio Ranieri crede in noi e alla fine l'essere umile pagherà dobbiamo fare un assist e vincere la partita fuori di poco il tiro del nostro Alex però c'è un'intesa meravigliosa con Ahmed Musa il nostro compito è fare un assist per cui dobbiamo mandarlo in gol il nostro Ahmed per ottenere tutti e tre i bonus anche se un gol non mi dispiacerebbe sono sincera cross per Musa la deve stoppare e segnare si assist viene considerato assist ottimo ragazzi abbiamo fatto una grande lob per Musa che ha fatto gol 1 a 2 ragazzi l'Anfield vede i propri Reds sotto grazie a questo gol di Musa e quindi porteremo praticamente portare a casa la prima vittoria nella prima gara di Premier in realtà l'assist ha portato poi a due stop e due allunghi di palla da parte di Musa prima di segnare ma vale comunque come assist ed è quello che conta di più ed ecco il fischio finale 1 a 2 riusciamo a vincere la prima partita di Premier all'Anfield non era per niente una sfida facile un altro piccolo miracolo tecnico di Claudio Ranieri che riprende da campione di Inghilterra in una gara molto difficile contro i Reds e riesce a portare a casa la vittoria grazie comunque all'ingresso di Hunter che ha servito l'assist vincente per il gol di Ahmed Musa segna però anche Walker quindi debutto positivo per entrambi i giocatori a dire il vero e questi sono gli altri risultati ma al momento non ci interessano troppo direi di poter proseguire e ci saranno esatto immaginavo l'intervista a fine partita allora ragazzi ci possiamo permettere anche la risposta impulsiva perché come c'era scritto poco fa la risposta impulsiva aumenta i follower ma riduce la possibilità di partire titolare per cui era da evitare in una squadra forte come l'Arsenal il Chelsea e le due di Manchester ma siccome siamo a Leicester ci possiamo permettere di essere un pochino più prepotenti e qua dico giocare per i compagni è la filosofia della squadra e qua invece aumenta un po' il favore dell'allenatore qua ragazzi dobbiamo giocare sul fatto che l'assist non deve essere considerato come minore di un gol e qua un commento sulla vittoria da parte della giornalista e gli dico la squadra ha giocato bene va bene ragazzi è finita questa prima partita di Premier League 1-2 riusciamo a vincere con il Liverpool peccato che abbiano recuperato e riciclato lo stesso footage della demo anche per questa prima partita perché ci ha rovinato un po' quell'aspetto di nuovo che dovevamo invece trovare però abbiamo capito che dalla demo avevano insomma estrapolato quello che era l'esperienza della prima partita di Premier in cui comunque siamo riusciti a fare un assist abbiamo fatto una bella intervista non troppo esuberante per cui sono contento direi che per il momento ci possiamo fermare qua perché abbiamo visto ben 4 partite lasciate un bel like al video continuate a sostenere questa nuova modalità il viaggio e ci vediamo tra qualche giorno con l'episodio numero 3 grazie e alla prossima grazie